Come Giunta abbiamo chiesto al Presidente Zaia che la Regione proclami lo stato di crisi per far fronte agli ingenti danni subiti sia dai privati sia dal Comune. Lo stato di crisi è deliberato nel corso della riunione di Giunta straordinaria convocata d'urgenza in mattinata. A Montebelluna danni per diversi milioni di euro e dovuti agli allagamenti causati dal maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha investito diversi quartieri della città. Veniva fuori un fiume d'acqua. Allagato cosa vuol dire? Quanto alta era l'acqua? Beh, saranno stati almeno 10 centimetri sulla strada. L'acqua qui giù, la casa nuova, ce l'aveva alta così. Abbiamo lavorato fino a l'una. Di notte? Di notte. Sì, che la vedi, c'è la cana qua, per fortuna si ha il motorino. Allagate alla casa di riposo vicino all'ospedale, scantinati, interrati e una quarantina di abitazioni private. Una bomba d'acqua. Nel giro di 40 minuti abbiamo avuto precipitazioni per 75 mm fra miste a grandine. Un evento eccezionale. Parlavo questa mattina con gli anziani. Nessuno ha memoria di un caso simile. Tra le località più colpite, San Gaetano e Sant'Andrea. Su pochi minuti è venuto giù non so quant'acqua. Praticamente i canali straboccavano. Diverse le auto finite nei fossi, per fortuna senza alcuna conseguenza per gli automobilisti. Questa residente ha avuto l'acqua che entrava in casa da due versanti opposti. Entrata al salone anche perché c'è l'acqua che entrava di questa e un'altra entrata io dall'altra parte che arriva l'acqua, davanti e dietro. Ma oggi con la paura monta anche la rabbia. I fossati colmi e carichi d'acqua traboccavano, racconta infine quest'altro residente. I colmi traboccavano e dunque mi entrava dentro l'acqua completamente. Quindi dal fosso e dalla strada le venivano in casa? Sì, sì, sì. Acqua, detriti, tutto? Beh, detriti no, però acqua.